Lorenzo Schiappi, quindi le credenziali non le ha smentite perché si è sempre andato in doppia cifra, ha iniziato seppur in un amichevole facendo gol. Sì, chiaramente appunto, come ha detto è sempre un amichevole, quindi contro l'Empoli. Sì, 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 per carità, però è sempre carcio d'agosto e quindi c'è voglia di fare bene, ci voglia di partire bene. Quest'amichevole penso la squadra abbia risposto benissimo, contro la squadra di Serie A chiaramente dove ci poteva, come ci ha messo in difficoltà, però penso che anche noi abbiamo fatto un ottimo test e li abbiamo messi anche in difficoltà. Certamente questo è un buon punto di partenza, c'è sempre un mese prima del campionato e noi ci si conosce da una settimana perché l'80% se non il 90% della squadra è nuova, quindi ci sarà modo di conoscerci e capire bene le nostre caratteristiche. Non solo uomo d'aria di rigore, ti abbiamo visto anche rientrare a dare una mano anche per far respirare la squadra. Sì, chiaramente sono giovane quindi metto a servizio della squadra e poi chiaramente se si riesce ad arrivare in avanti si prova anche a fare gol perché chiaramente un attaccante deve saper fare anche quello, però deve saper fare bene anche il lavoro sporco perché una squadra in certi momenti della partita ha bisogno anche di quelli. Grazie 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 Grazie